Asta la vittoria! Asta la vittoria! il suo figlio è la sicurezza che fosse la sua vita la sua moglie è il tuo figlio l'armo è una tua vita quando avessi aveva il figlio 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 aveva una segretta aveva una dottor l'armo è un figlio aveva una città aveva un figlio Questo era il diritto della guerra e il diritto di un concetto. Il membro della guerra era l'anglippio. Il nostro開o è il dottile un voto già nella sua route. Il dottile della guerra è quello che l'arriamo. Il cuore di oggi si muoviti in questo modo a dire il gruppo di Filippo e il gruppo di Rottene Un gruppo di Hitler Italia, un gruppo di Musilini Un gruppo di Italia Un gruppo di sedem di Filsen Un gruppo di Bara Un gruppo di Siyad Barretta Un gruppo di DGV Un gruppo di DGV Un gruppo di Fuente Un gruppo di Juve Se un gruppo di Bara C'è lui appena molto interessante che è successo Un gruppo di Barda Sono tutta una scuola e sono�ànhati alla polizia Viarò una gallina del dir la brella del dir la gallina del dir la re LINA la Reserva delle schizophrenia le volle è un Movimento qui acciono la aventura che c'è un vita la che nutrebbe che hanno fatto le mie problemi che sono stati che lui conoscendo il buggero e cosa è così, Non ci sono domani. Perché i vostri ragazzi si siano condividendo e rispondere bene le mie i diritti a tutti gli altri che ci sono grazie che è meraviglioso, questo è molto importante. Durante un' währendduele in unareccia che aveva un'amica all'onore dell'Ammad Goray e non arrivati a casa all'amica che conosciano divene e che avvicina la prima volta a dormiti e voglia di gargirci Quell'amica che aveva un'amica già della Piddle sono já che aveva un'amica e aveva un'amica a casa all'ambito e che aveva un'amica alla seconda d'armi e anche che aveva un'amica già della Piddle e che aveva un'amica aقonsi La mia famiglia è la mia famiglia. La mia famiglia è Ormia, la mia famiglia è Gure, Gadsen, la mia famiglia è all'Ethopia, la mia famiglia è Shibam. I will also welcome the President of Ormia. La mia famiglia è Finfine, la mia famiglia è Finfine, la mia famiglia è Gima, la mia famiglia è Gadsen, Ormia. La mia famiglia è Giubaland, Dir, Dirland. La mia famiglia è Marca, Diman, Dir. La mia famiglia è Chabellahosa, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, Ormia, Dir. La mia famiglia è Somali, Dir, Samarone è Sagh, Sol, Sanac, Isai, Medieval, Dir. Dir, your home is all Somali land, Dir, Ormia. Your port is Birbara, your home is Ormia, is Dirland, Puntland. Dirland, Puntland. Now there is a fascist, President Fashi, people that they say we are Darot, we are Jaberti Ismail, Tigray. We want our land, we want our Bosa support. Your home is Chabellahosa, Kalafi, Gererwani, Habadli, Sheikhal, whoever is there is Dir. Your home is Baledwain. The river of Chabellah, the people of Dirand, that is your home. Mr. President Legasse, Margasse. Same thing what I say Ahmed Shidde, your home is there. Not only Jigjigal. People that are suffering in Somali land, Jigjigal is killing Dir. Jigjigal is killing Dir, innocent people. People farming. People of the river. Raping. Holocaust. Ahmed Shidde, you are the leader, we are waiting for you. And we are prepared. Your land is Hirshabellahosa, sugar factory, and farm, and gracious land, gracious people, Gererwani. That is your land. Not good land. You have to liberate. Your land is configured by Bokong. It's your land. Sharif Sakeen is raping. It's killing. It's using mercenary. Habergidil. Abgari. Killing Shabellahosa. Killing Abgari. Killing... Killing... Killing poor people of Abgari. Killing Galeri. Killing Digilim Rifle. Only Dirker. They are Oromo original. And they are Dir. We come down. The neighbor of Mogadishu. Mogadishu is white and black. Black is Dir. They take our land. There is no Muddulut. Black is Dir. Afgoyi is Dir. Jazir is Dir. Danami is Dir. Aframora is Dir. Banadir. They are Banadiri. Nice people. Metropolitan. White people. Like the Harar. Barawi is the same thing. We are going to make circles. We don't want their lands. We will give them independence. We will give them reorganizers. They will be Banadiri state. They are capital. Barawi. Republic of San Marino. Like San Marino of Italy. They are using Euro. They will use Etokiam Dir. There will be army. Barawi port. Mogadishu port will be free port. We will invest. To liberate. To give them independence. Dir. We will not invest. Financial credit we are going to give you. We are going to give you army. We are going to give you technical. We are going to give you. Our army. Commandos. Helicopters. MiGs. Whatever force you have. We will give you credit. Every penny. Euro and dollar. You will pay back. When you liberate the port of Kismayo. When you liberate your people. Your farms. When you build your state. When you liberate Berbera port. When you liberate Marca port. When you liberate Mogadishu port. Bravo port. And you will pay. When you are paying the tax. We share. Development and tax. We have the development. Of the petroleum. Ethiopian petroleum. In Shidami. I am welcoming. That. Was the change. Was plan A. To liberate DDS. To liberate Shibamo. To liberate Oromo. To liberate Oromo Somali. To liberate Oromo. To liberate Dir. It's finished. We have plan B. We have a president of the party. They will make election. We have plan B. Plan B is practical. Plan B is not theoretical. Plan B is action. It's activity. It's development. It's progress. It's hot. Success. Future for the country. And for the people of Dred and Oromo. We want fast justice. There will not be justice. If not destroy the Fashi. That we are going to see everyday. His tattoo. In Jigjiga. That is the first justice. Should be demonized. We will not accept. Without justice. For Abdi Iley. And hanging. In the middle of Jigjiga. That is the justice we require. We require education. Professionally. Elementary school. High school. Technical school. Nurse school. Secondary school. Technical school. Health school. University. Big university. Doctors. Engineers. Political science. Army university. Engineering university. Doctor university. Programming university. Humanitarian. And solidarity day. That is what we are asking. If we get this. We have. On plan B. And plan A. We want to liberate our country. Our aroma. And Dir. Our aroma. And Somali. Dir. Three thousand kilometers. From Djibouti. Somaliland. To Puntiland. To Galmuluk. To Jubaland. To everywhere. And we come. We gonna discuss. I will talk to Dir. You have. Leaders. You will be the soldiers. We give a speech. We talk to Formali. We talk to everyone. We talk to parliament. We'll. Dismiss. Our. Our cabinet. In the parliament. They are not Dir. They are Macheners. They are Americans. Canadian. We will campaign. Our liberation front. Of. Dir. The起來. Theulerda. The capitalize. The Il nostro paese non è un paese, è quello che stiamo chiedendo, se si liberiamo questo è un grande paese, economica, diversi parti come Dubai, due grandi rivers del mondo, due farmati, fish, uranium, petrolio, gas, non resta in questo mondo solo, voglio fare solidarietà, noi voglio fare grande comunicazione, Plan Tres, Johar, astronaut, voglio explorare il mondo, dear Oromo, voglio explorare il mondo, voglio explorare il mondo, voglio explorare l'Africa, voglio discover l'Africa, voglio discover l'Africa, voglio discover il mondo, astronaut, come out, Europe went, Italy went, China went, America went, India went, Arabs, they're buying people to go, we're gonna go ourselves, dear Oromo, we're gonna explore the moon, not discover, Johar, astronaut, to go to the moon, enough space to the moon, after Victoria, Asalaamu Alaikum. Asalaamu Alaikum warliya, mao, oe eminen, mahamma abduqadir, translate this to Oromo, the one in English, translate this to Oromo, I will talk to Somalia, Somalia, it became aborigin, Somalia dir, weyyan, dirna wa Oromo, wa Kushti, Oromo wa Somali wa Kushti. Weyyan, President, Ethiopia, wa weyyan, the federal government, weyyan, Asalaamu Alaikum warliya, weyyan, 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 Asalaamu Alaikum warliya, hoi isu wa Gureru, se dhoko ala abii, se dhoko ala ahmed Shidde. Warliya mey, plan A, we liberate the country, we have victory, we nominate the party of democratic Somali, that is Ahmed Shidde, the president, and they will make an action and eliminate the cabinet. I will discuss different way, that victory is come. Il nostro corso che ha detto che non è un paese che non è un paese che non è un paese. Il nostro corso è Saddam Hussein, il nostro corso è un paese che è un paese che è un paese che è un paese. Ma è la verità. Il brano per la verità. Il nostro corso di protezione è stato fatto e abbiamo fatto la verità dell'economia. Abbiamo fatto una nuova polizia. La verità è un'economia. Abbiamo bisogno di un'educazione. E' un'educazione. Abbiamo bisogno di un'educazione. Abbiamo bisogno di un'educazione. Un'educazione. E' forte. E' un'educazione. We need health, ispitalo, nurse, pronto socorso, ambulance, red cross, caritas, solidarietà, humanitaria. We need, we need shamil, we need 75%. We need 75%. We need 75% back into eyes and find 78% back out of their money. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ma non si chiama il sogno, non si chiama il sogno, si chiama il sogno. E' un sersino totale che non si chiama il sogno di un sogno, le sottile, però non si chiama il sogno, per fare una asquerda esegurata Faschi che i soldati di Borohan, che si chiama il sogno di Ismail, ho parlato di Roma, che ha un sogno di la Sombra di Roma, che non si è una nazione, perché si è diventata del sangra, usa la storia una strada ancora una strada assoluta un'elemento usapra un po' di un po' di un po' di scherzi un po' di un po' di bian boa e che si occorre sora Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 e questo è non la Vittoria sempre che si saque una persona di discovery e explorazione sono un astronauta che si saque la loro esperienza si saque quella che noi abbiamo chiare un'applicazione dell'azienda di Africa un'applicazione della tecnologia e questo è un'applicazione di Victoria sempre Se scientificamente ci siano i suoi merci si a tutti fatti e alla vita Grazie a tutti, grazie a tutti.